e buongiorno a tutti oggi sto facendo un video per vedere se trovo l'anello io penso che non si può trovare più se qualcuno fosse la vista se l'ha preso buona versione e buongiorno 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 Passa l'albio. Passa l'albio. Passa l'albio. Passa l'albio. Passa l'albio. Passa l'albio. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.